Buongiorno e ben trovati in A questo ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6 Chiedo scusa per la voce, purtroppo non al meglio delle condizioni Ma cercheremo di fare di necessità virtù Allora iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani regionali Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara Eccola qui il titolo di apertura e il seguente Riviera Sud, 70 posti, auto gratis Da oggi si parcheggia sul lungomare Colombo e sulla strada Parco Proseguiamo con la lettura di questa prima pagina Andiamo a vedere nelle cronache Pescara prof arrestato adesso è caccia ai complici Dopo l'arresto di un maestro di musica di 49 anni Che conservava a casa 1075 foto di bambini abusati Continuano le indagini della polizia postale e delle comunicazioni Ora l'inchiesta mira ad identificare tutti coloro che avevano a che fare con l'uomo L'insegnante riceveva e inviava il materiale pedopornografico attraverso la rete E intratteneva decine di conversazioni con altre persone usando Skype Lunedì sarà interrogato e potrà fornire la sua versione dei fatti A Città Sant'Angelo ancora sequestrata un'azienda di fertilizzanti E poi ancora la protesta penne in piazza Sittin a difesa dell'ospedale Proseguiamo con le altre notizie Abruzzo allarme dei sindacati metà occupati sono precari Va dato sostegno alle PMI, dicono i sindacalisti E poi l'assemblea Anci Giovani Chieti, 400 amministratori under 35 Discutono di welfare A centropagina la fotonotizia Il film festival a Pescara Paola Cortellesi Apre il flaiano con un nastro d'argento Vedete nella foto Paola Cortellesi con un'ammiratrice Assieme al regista Riccardo Milani L'attrice ha incontrato il pubblico al Circus Prima e dopo la proiezione del film come un gatto intangenziale Per il quale ha vinto il nastro d'argento Che le sarà consegnato questa sera a Taormina Da leggere poi i mondiali di calcio Oggi gli ottavi con grandi sfide Ronaldo e Messi Guai a fallire Andiamo nel taglio basso C'è il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna Il titolo dell'articolo Eccolo qui Non ti piace come cucino e io ti avveleno Storia che arriva dall'India Da una ragazza indiana di 23 anni Appassionata di cucina Che alle critiche ai suoi piatti Ha risposto mettendo del pesticida nei piatti Uccidendo 5 dei 120 invitati ad una festa Lasciamo la prima pagina di Pescara Stiamo sempre al centro Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto Il titolo di apertura Schianto mortale dopo il lavoro Gissi, operaio di 55 anni Appena uscito dalla fabbrica Finisce con la moto contro un camion E poi nelle cronache a Tessa Svolta alla Sevel L'assunzione per 169 precari Da un contratto con termine E una scadenza precisi Al sogno di un posto a lavoro a tempo indeterminato Nella più grande fabbrica ad Abruzzo Traino dell'automotive regionale e nazionale Sono 169 i lavoratori della Sevel Che ieri hanno visto modificata la loro posizione lavorativa Da precari a dipendenti a tutti gli effetti In gergo si chiama stabilizzazione Che i sindacati hanno chiesto a gran voce in questi mesi Forti dei risultati produttivi Ottenuti negli ultimi anni A Chieti poi la politica Litte in consiglio Slitta la tassa di soggiorno E poi ancora Detenuto di San Salvo Uccise la vicina di casa Si laurea in filosofia Andiamo a vedere a centro pagina Torniamo sull'Assemblea nazionale del Lancio C'è a confronto 400 giovani amministratori comunali E poi c'è la TUA La società di trasporto unico regionale Che a Chieti ha presentato il bilancio 206 nuovi bus Tonelli confermato Presidente Ancora sul centro Nell'edizione di Teramo Il titolo di apertura è Megamulti a chi compra dagli abusivi Tortoreto Guerra al commercio irregolare Sanzioni Fino a 7 mila euro E poi nelle cronache Ospedale Mazzini Nuova tecnica Salva il piede all'operaio ferito Con pazienza certosina E applicando una serie di tecniche innovative I chirurghi del Mazzini Gli hanno salvato il piede Quando il 18 maggio Un 52enne di Don Taresco È arrivato al pronto soccorso Dell'ospedale di Teramo Con un gravissimo trauma Da schiacciamento al piede destro La prospettiva più probabile Era l'amputazione All'operaio della Cordivari Mentre era a lavoro Nello stabilimento di Pagliare Di Morrodoro Era passato sul piede Un pesante muletto A Castellalto invece Uffici inagibili Ma rimasti aperti Sindaco indagato E poi ancora Roseto Patto col colosso Max Meyer Crisante Assume A centropagina Andiamo nel capoluogo Teramo Dal nuovo sindaco D'Alberto Risolto il caso Giostre Andranno a San Francesco Questa la decisione Del neoprimo cittadino Che ha risolto così La grana delle Giostre Per la festa Della Madonna Delle Grazie Proseguiamo con L'ultima delle quattro edizioni Provinciali del centro Quella di L'Aquila Avezzano Sulmona Fa assumere la nipote A processo Il titolo di apertura Dirigente del comune All'Aquila Indagato a giudizio Scusate Rinviato a giudizio Per abuso D'ufficio E poi Nelle cronache A Carsoli Autopirata Travolge Uccide un motociclista Tragedia sulla Tiburtina Valeria In un incidente Ha perso la vita Un 35enne Antonio Cusano Originario di Benevento Fatale Stando ai primi accertamenti Lo scontro Con un'auto Il conducente Si è allontanato Senza prestare soccorsi Adesso è ricercato Dai carabinieri L'uomo è stato soccorso E trasportato All'ospedale dell'Aquila In elicottero Ma è deciduto Dopo qualche ora A causa delle ferite Riportate E poi domani All'Aquila Petrocchi Prima messa Solenne Da cardinale Ancora L'allarme Pacco truffa A un pensionato Di Trasacco Andiamo a vedere Anche qui Il centropagina Con la fotonotizia Oggi Il circuito di Avezzano Cento boli di depoca Sfilano Nella notte Dei motori Per il raduno Motoristico Che richiama Appassionati Da tutto il mondo Per l'occasione Saranno aperti Anche diversi negozi In centro Ieri il prologo Con la rievocazione Del trofeo Micangeli Sul monte Salviano Andiamo ancora avanti Con i nostri giornali regionali Passiamo Al messaggero Andiamo a vedere Il titolo di apertura Sanità Attese Fino a due anni Pescara Forza Italia Accusa Per i tempi Delle visite Mancini Dobbiamo puntare Sulla qualità L'assessore Paolucci Il progetto Del nuovo ospedale di Chieti Nella prossima Riunione Di giunta Scendiamo Venerdì nero Nelle strade Muoiono Due motociclisti Scooterista Sotto un tiraggissi Romano Travolto Da un'auto Pirata E poi La banda dei duri Nega tutte le accuse Rapine e distorsioni Contro minori A Lanciano Coinvolto Una banda Di 4-5 persone Che è ascoltata Dai carabinieri Ha però Negato tutto Nella fotografia Pescara Via il restyling Della Riviera Sud Rinasce dunque Il lungomare sud Il titolo scelto Dal messaggero Di spalla Ancora gli interrogatori Di Rigopiano I dirigenti Della regione Nessun ritardo Nei soccorsi Gli indagati A IPM Il Cor Aveva Competenza Su strade E viabilità Andiamo ancora avanti Nel taglio basso L'evento Gran Sasso Che festival 14 comuni Del Gran Sasso Coinvolti In questa manifestazione Andiamo avanti Nel taglio alto Le altre notizie Giulia Nova Scagliano Una Molotov Sul balcone Del pensionato A Lanciano Sevel stabilizza 170 lavoratori Pecari Poi il calcio Pescara Scambio per Brugman Teramo Iscrizione E documenti Ok Il capitano Della Samp Della Samp In cambio Della contropartita Tecnica Leo Capezzi Campitelli Ha presentato La modulistica Per non incorrere In sanzioni Andiamo a vedere Anche la città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Il titolo Di apertura La ricostruzione Non paga I costruttori Del lancio Inaccettabili I 500 giorni Impiegati Dalla provincia Per quanto riguarda La politica D'Alberto Riapre i giochi Alle elezioni Provinciali Entro l'anno Dunque si torna Al voto Per l'ente Voto di secondo livello Ve lo ricordo Non svolto Dai cittadini Ma direttamente Dagli amministratori Di spalla Ancora la politica Lega e 5 Stelle Un possibile accordo In Abruzzo Un accordo Giallo-verde Dunque Bella Chioma Che è il coordinatore Regionale Della Lega Non esclude Un Abruzzo Giallo-verde Proseguiamo ancora Il caso Reperti Comune Più volte Avvisato Dalla Asle Centropagina Nella fotografia Madonna delle Grazie Luna Park Spostato a San Francesco La soprintendenza Sfratta Le Giostre Questo è il titolo Della città E ancora La Madonna Torna in processione Teramo dopo 30 anni Si rinnova Il rito Della compatrona Nel taglio basso Isola del Gran Sasso Vandali Al castello di Pagliare Poi per quanto riguarda Invece La Serie C Iscrizione Ok Il Teramo sul mercato Vuole la firma Della punta Di Renzo Lasciamo i quotidiani regionali Apriamo lo spazio Dedicato Ai titoli nazionali Partiamo dal Corriere Della sera In apertura Migranti Scontro Sui centri Caos Dopo l'intesa Al vertice Europeo Naufragi In Libia Più di 100 I dispersi Frontiere La Francia Accoglie L'accoglienza Aspetta l'Italia Scusate Conte Lo smentisco Mai dato La disponibilità E poi C'è L'editoriale Di Federico Fubini I leader Dell'Unione Europea Perché Perdono tutti Poi Andiamo avanti Il ministro Salvini Qui non arriveranno più Navi pagate Da stranieri Porti chiusi Secondo il ministro Dell'interno Anche Per i rifornimenti Per quanto riguarda Le navi Delle ONG E poi Il caso Sempre per quanto riguarda La politica interna L'ipotesi Manovra bis Fa litigare Il Governo Andiamo adesso Nel taglio centrale Sondaggio Forza Italia All'8,3% PD All'18,9% La Lega Supera il 31% E toglie voti Ai 5 stelle E poi ancora A centro pagina Washington L'attrice Susan Sarandon Fermata dalla polizia Dopo una marcia Susan 71 anni Contesta Trampa Agli arresti Con altre 574 donne Andiamo a vedere Anche la Repubblica In apertura L'Europa L'Unione Europea Dunque cancella L'accoglienza Naufragi In Libia 100 I morti Migranti Gelo Macron Conte Al vertice Vincono i falchi Divise Grad Salvini Voglio Di più E poi c'è L'analisi Di Andrea Bonanni L'isolamento Dell'Italia Populista L'ex Ministro Dell'Interno Minniti Dice Un fallimento Patto Fragilissimo Che punisce Le organizzazioni Non governative E poi Il taglio basso Con l'economia Si sgonfia Il decreto Dignità Niente coperture Per il fisco Torna Una sorpresa I voucher Questo per quanto riguarda Appunto Le notizie Di carattere Economico Andiamo sulla stampa Anche qui l'apertura Riguarda I migranti Dal vertice Dell'Unione Europea Una beffa Per l'Italia In mare Strage Di bambini Subito Lite Sull'accordo Macron I centri Non da noi Conte Sbaglia Era stanco Questa la lettura Della stampa Proseguiamo Con il fatto Quotidiano Andiamo a vedere Anche come Legge queste Notizie Sui migranti Il fatto Quotidiano Migranti Centri volontari Tra virgolette Ma ora Si saprà Chi accoglie L'accordicchio Dell'Unione Europea Dublino Resta Stretta Sulle ONG Passa La linea dura Macron Solo nei paesi Di sbarco Conte Replica E dice Non è vero E poi Restando in tema Naufragio Tre bambini Di un anno Fra i cento morti Libia L'ultima strage In mare Davanti Alla costa Di Tripoli E vedete Questa immagine Davvero Straziante Poi Proseguiamo Con il sole 24 ore Il titolo Di apertura Ricordati Agli inglesi Del fondo CVC Per 3 miliardi Farmaceutica L'addia Andrea Ricordati Reinvestirà Il rimarazionista Di minoranza Nei primi mesi Concluse 333 operazioni Per un valore Di 31,5 miliardi Poi Grande spazio Al vertice Dell'Unione Europea Migranti Il nodo Dei 70 mila Rientri Questo Per quanto riguarda La notizia Di giornata Proseguiamo Sul manifesto Anche qui Titolo Sui migranti Macro Bottino Giocando Con il cognome Del presidente Francese L'Europa Sempre più divisa Si barrica Mette all'indice Le ONG E sposta I suoi confini In Africa Macron Incassa L'accordo Di facciata Dell'Unione Non prende impegni Sull'accoglienza E scarica L'Italia Conte Prova a presentare Il bicchiere Mezzo pieno Ma torna a mani vuote Niente riforma Di Dublino E ricollocamenti Tra i 28 Solo Su base volontaria Esulta Il blocco Di Visegrad Merkel Ottiene Quello che voleva Il suo ministro Dell'interno E evita La crisi Di governo Il quotidiano Comunista Poi anche Sottolinea Quello che è accaduto A largo delle coste Della Libia Tre bambini Tra le vittime Accertate Naufragio Cento I dispersi Andiamo Su avvenire Anche qui C'è Diciamo Il titolo Sui migranti Vietato Salvare Questa la lettura Del quotidiano Cattolico L'accordo Unione Europea Mette al bando Tra virgolette Le ONG E i dibici Raccolgono Cadaveri Di bambini Al consiglio L'Italia Punta i piedi Ma ottiene poco Soltanto intese Volontari Mentre si ribalta Una nave Con oltre 100 Migranti Andiamo Ancora Sul messaggero Anche qui Il titolo Di apertura E sui migranti Italia Delusa E scontro Salvataggi Condivisi Ma i centri Di detenzione Saranno soltanto Volontari Un successo Per Visegrad Macron L'accoglienza Ma non In Francia Conte lo smentisce Merkel fa Intese Separate Salvini Protesta E dice Servono Fatti L'accordo Beffa E la lettura Di Romano Prodi Ex Premier Ex Presidente La Commissione Europea La solidarietà Europea Così Resta Lettera Morta Scrive Romano Prodi Poi Andiamo A centropagina Parlamento Lumaca Nei primi 100 giorni Solo 52 ore Di lavoro Appena Due I provvedimenti Approvati In tre mesi Intanto Fioccano Le proposte 750 Sono i disegni Di legge Depositati Nella fotografia Washington Manette per l'attrice 600 manifestanti Per i rifugiati Donne Antitrump Arrestata La Sarandon Andiamo Sul quotidiano Il tempo Il titolo Qui è differente Bancarotta Forza Italia Pignorati i conti Del partito Di Berlusconi In cassaforte Rimasti 952 euro Da Silvio Fideusione Di 3 milioni Deputati Morosi Rimasti Solo Tre Impiegati Andiamo A vedere Il quotidiano Libero Il titolo Si è fatto In finocchiare Ufficiale Conte È un pollo L'Europa Ammette Che il problema Profughi È di tutti Ma ci lascia Da soli A risolverlo Bruxelles Ci chiede Una manovra E lui risponde Signor Si Prorogate pure Le sanzioni Alla Russia In violazione Del contratto Di governo Andiamo Sul giornale Farsa Europea Sui migranti Ci hanno Fregato Accordo Solo Volontari Hotspot Da noi E nessuna Ridistribuzione Conte Canta Vittoria Macron Lo sfotte Per i paesi Più Indebitati Spunta La nuova Troica E poi Nel taglio alto L'intervista Berlusconi Legittima difesa Ecco la mia ricetta Quello del Cavaliere Salvini Adotti La proposta Azzurra E ancora L'editoriale Di Alessandro Sallusti Un governo Inesperto La faccia feroce Non basta Andiamo Sulla verità Il titolo Di apertura Il clandestino Ora è Macron Compromesso Unione Europea Sui migranti Il presidente Francese Prova a Intestarsi La vittoria Nel vertice Di Bruxelles Ma è smentito Da Conte E dalla Merkel Le attività Dell'ONG Che lui aveva difeso Dandoci Dei lebrosi Vengono fortemente Ostacolate Bloomberg Il premier italiano Ha ottenuto Molto più Dei predecessori Quindi vedete Letture opposte Anche sui quotidiani Di aree di centrodestra E poi Da Prodi A Pecoraro Scagno Ecco tutti i tagli Dei vitalizi Vogliono davvero Farci credere Che Rivera Andrà in miseria Con 5517 euro Lordi E Scalfari Non sopravviverà Con 1047 euro Andiamo Ancora sul secolo D'Italia Il titolo Conte Raggirato Con la foto Perplessa Di Giorgia Meloni E poi Nel taglio basso In primo piano Navio NG Ma è più in Italia Salvini Critica Macron Poi trovata Sintesi in Europa Ma ora Servono i fatti Ancora Renzi Si fa un regalone Maxi Villa Con Condono Sul mattino Di Napoli Adesso Il titolo Di apertura Migranti L'accordo Non regge Prima L'annuncio Dell'intesa Poi Le caos Italia Delusa Nuovo scontro Conte Macron L'Eliseo I centri Di accoglienza Ma in Francia La Merkel Si tira indietro Sui rimpatri Poi il caso Libia Affonda Barcone Le foto Dei neonati Morti ONG Porti Chiusi Tutta l'estate Come vi ho detto In precedenza Anche qui Troviamo il commento Di Romano Prodi Così l'Europa Non ritrova La solidarietà Poi ancora Andiamo a Centropagina Chiaramente Il quotidiano Napoletano Pone attenzione A ciò che accade Nella sua regione Cafonal Pompei Per un pugno Di like La mania Di scatti Da social Servono Dei divieti Perché si rischia Di danneggiare Il patrimonio Di Pompei E poi Le inchieste del mattino Terra dei fuochi Si al decreto Poteri Accosta Il ministro Dell'agricoltura Dazzi Su chi è Fuori legge Questo per quanto Riguarda I quotidiani Generalisti Nazionali Andiamo a vedere Anche Quelli sportivi Partiamo Dalla Gazzetta Dello sport Il titolo Di apertura Con la foto Di Ronaldo E Messi Via gli ottavi Gli ultimi Dieci palloni D'oro Dentro O fuori Il giorno Degli dei Ronaldo Contro il muro Dell'Uruguay Messi sfida Dalla Francia Se vanno avanti Il futuro È scritto Faccia a faccia Nei quarti E vedremo Come andrà a finire Andiamo nel taglio alto Politano firma Interora Casting Per un terzino Vicino L'egiziano Treseguet Andrà al Parma In lista Tre nomi Vracilco Vidale E Zappacosta Occhio anche a Florenzi La primavera A Madonna E poi Altra milanese Il Milan Li rilancia Commisso Tuona Basta Mi fermo Ennesimo stop Il magnate Statunitense E irritato Scrive Tifosi Ho fatto di tutto Ma non cede Il club Cerca la svolta Intanto Sbarca Alilovic E poi Diamo nel taglio basso L'intervista All'ex Presidente Della FIGC Sulla mancata Qualificazione Balotelli Nel gruppo c'erano dei veti Su di lui Tavecchio Dovete Tenere Conte Pagandolo Dovevo tenere Conte Pagandolo Di più Questo è un po' Di autocritica Dell'ex Presidente Della FIGC Sulla nazionale Andiamo sul Corriere Dello sport Il titolo Principale Chiaramente riguarda Il mondiale Di Russia Capra Contro Capra Scattano gli ottavi Riparte la sfida A distanza Tra CR7 E Messi E poi Nel taglio alto Lo speciale Mercato Chelsea Profumo Di Donna Chiaramente Ci si riferisce A Donna Roma Che vedete Nella fotografia Abramovic Che si è visto Respingere dalla Roma Un'offerta di 60 milioni Per Allison Adesso si sposta Su Gigio Certo Che se un anno fa Il Milan Avesse Insomma Ceduto Il giocatore Società Trattativa Per cento Allora Dateci Milinkovic Rincaro Scatena la reazione Dei tifosi Che adesso Pretendono Il grande acquisto L'obiettivo diventa Più che mai Il centrocampista Della Lazio Chiellini Intanto rinnova Fino al 2020 E Barzagli Fino al 2019 Poi per il mondiale Iguain fuori con la Francia Per quanto riguarda Le notizie Che Attengono L'Argentina E poi Rilancio Per Verissimo Toro Stavolta O mai più E ancora Commisso Ultimato Ma lì Ora basta Vendi Il Milan Per quanto riguarda La trattativa Sulla cezione Del club Noi adesso Ci fermiamo Per il break Pubblicitario Andiamo a vedere Anche le previsioni Del tempo E poi torniamo Con la seconda parte Di Mattino 6 Eccoci di nuovo insieme Per la seconda parte Di Mattino 6 Riniziamo Andando a vedere insieme Le pagine interne Dei quotidiani Abruzzesi In primo piano Sul centro La assemblea nazionale Dei lanci Giovani Welfare Finanza In 400 A confronto A chiedi Gli amministratori Comunali Under 35 Il sottosegretario Spadafora Riforme per contrastare La dispersione scolastica E la ricerca Maschio Laureato E preparato L'identikit Del sindaco Young Nella pagina Successiva L'occupazione In Abruzzo I posti fissi Sono la metà Ormai E boom Dei lavoretti L'allarme Di CGL Cisleville Che presentano Una piattaforma Alla regione I giovani Trappolati Nel precariato Servono politiche Di sostegno Alle PMI In regione 80.000 poveri Altre 350.000 persone Che rischiano Di diventarlo E qui vedete anche Lo specchietto Riassuntivo Della situazione Dei contratti In Abruzzo Il piano Lavoro Per la regione Noi andiamo a sentire Adesso L'opinione Dei sindacati Nel servizio Perché si parla Di emergenza Lavoro Oggi In Abruzzo Segretario Si parla Di emergenza Lavoro Perché I dati Ci dicono Qualcosa Di molto Preoccupante E di inquietante Diminuiscono Della metà I contratti Di lavoro A tempo Indeterminato Raddoppiano I contratti Di lavoro A termine Questo significa Una cosa Molto semplice E molto Preoccupante Che quel poco Di occupazione Che cresce È prevalentemente Occupazione Precaria Lavoro A termine Della durata Anche di pochi mesi Questo d'altra parte Ce lo dicono Anche i recentissimi Dati sulla povertà L'Abruzzo È una delle regioni Dove la povertà Relativa in percentuale Aumenta più Di altre regioni Ci sono 80.000 persone In condizioni di povertà E ci sono 350.000 persone A rischio di povertà C'erano occasioni Per prendere in tempo Questo problema Noi sottoscrivemmo Due anni fa Ormai sono più di due anni Il patto per il lavoro E per lo sviluppo Che impegnava in particolare Le risorse comunitarie Della programmazione 2014-2020 Non c'è stato dato più conto Sullo stato di attuazione Di quel patto Per il lavoro E per lo sviluppo E soprattutto La regione Abruzzo Ha un fortissimo ritardo Nella capacità di spesa Dei fondi comunitari Per esempio Per esempio All'azienda artigiane C'è quello di una risalita Trasporti in attivo Per il terzo anno consecutivo 8 milioni di fondi in meno Crescono i risparmi aziendali Ieri presentati i numeri A Chieti E noi possiamo andare a vedere insieme Il servizio E di 197 mila euro L'utile con cui si chiude Il bilancio Per il 2017 Di Tua L'azienda unica Dei trasporti Della regione Abruzzo Il bilancio Presentato questa mattina A Palazzo De Maio A Chieti Evidenza un dato significativo Il taglio dei costi Per oltre 6 milioni di euro Ed un rapporto Ricavi costi Che si attesta Al 27% Dato che rileva La virtuosità gestionale Nonostante Siano diminuiti Di 8 milioni di euro I contributi pubblici I numeri del bilancio Parlano di un'azienda Che si è rimessa in moto Attraverso un aumento Del traffico E una riduzione Del debito Verso i fornitori Garantito Il 65% Del trasporto Pubblico locale Su gomma In Abruzzo Ed il 20% Del trasporto locale Su ferro In collaborazione Con Trenitalia Sulla propria rete Ferroviaria Lanciano San Vito E su quella nazionale Tua ha registrato 960 mila Treni chilometro Per quanto Invece riguarda Le corse effettuate Con i bus Sono state più di 10 mila Su 221 linee offerte 865 i mezzi Che costituiscono Il parco Autobus rinnovato Con 206 nuovi Autobus Tra urbani Suburbani Ed extraurbani Tua è l'azienda Tua è l'azienda che copre Anche i collegamenti Dei servizi commerciali Su gomma Lungo le direttrici Pescara Sulmona Avezzano Roma E anche i tratti Giulianova Teramo L'Aquila Roma E Pescara Napoli Dal punto di vista Dell'utile Di esercizio Siamo per il terzo anno Consecutivo Al successo 200 mila euro Che andranno ad alimentare Una riserva Che ci servirà Nel futuro Secondo In questo periodo Che riguarda la gestione Tonelli Ma che si è innestata Sulla gestione Del grande Luciano D'Amico Abbiamo anche Attrezzato Copertura finanziaria Tua Regione Per rinnovare Il materiale rotabile Il parco Di questo fondamentale Materiale Che consente La qualità Dei trasporti Nel 2018 Porteremo a conclusione Anche la versata Questio Di Filovia A Pescara Montesilvano E Francavilla Beh Abbiamo approvato Un buon bilancio Perché L'abbiamo chiuso inutile Malgrado La riduzione Di 8 milioni Delle sovvenzioni pubbliche E lo abbiamo fatto Attraverso una politica Oculata Che ha Saputo Distinguere Quali sono Le esigenze essenziali Da quello che poteva essere Qualcosa di superfluo Abbiamo togliato I costi Di 6 milioni e mezzo Quindi Poco E nello stesso tempo Abbiamo Incassato anche di più Migliorato Gli incassi Per il trasporto Dei viaggiatori Questa dimostrazione Che abbiamo fatto Interventi su servizi Ma non in riduzione Ma in una migliore Organizzazione Dei servizi stessi Abbiamo tolto Dalle duplicazioni Ma abbiamo anche Rinforzato Alcune aree Andiamo avanti Sulla pagina Abruzzo Del centro Cambiamo argomento Parliamo del decreto Terremoto Pagano Sulle tasse Uno scivolone Del governo Il coordinatore Regionale Di Forza Italia Il candidato Del centro-destra Alle prossime regionali Va concertato Con gli alleati Io presento Emendamenti Per risolvere i problemi E se la Lega Vota contro Ho il dovere Di dirlo Dice Pagano E poi Restando sempre In tema Di questo scontro Tutto interno Al centro-destra Regionali Lega 5 Stelle Possibili alleati Bellachioma Non esclude alcune ipotesi Nuovi ingressi Nel partito Di Salvini Nel frattempo E poi ancora Ed Alfonso Annuncia Nuovo emendamento Ed esposto In procura Sempre relativamente Alla restituzione Delle tasse Argomento Che affronta Anche la pagina Abruzzo Della città Restituzione tasse La lotta Si sposta Alla Camera D'Alfonso Attacca dopo La mancata approvazione Da parte del Senato Dell'emendamento Per l'Aquila Esposto In procura Come Presidente di Regione Ha affermato Coinvolgerò La magistratura competente Per appurare Se ci siano stati Comportamenti omissivi Nell'attività Di notifica Alla Unione Europea Proseguiamo Ancora Con La lettura Dei quotidiani Regionali Nelle pagine Di Pescara In apertura Sul centro La sosta Per il mare Nuova Rivera Sud Da oggi 70 posti Auto gratis Lungomare Colombo Trasformato in Un parcheggio Aperta Anche la strada A parco Andiamo a vedere L'apertura Della pagina Di Pescara Anche sul Sul messaggero Via Al cantiere Ecco la Rivera Sud Inaugurata La corsia stradale La pista ciclabile Di fronte agli stabilimenti Balneari Si lavora Ancora nei parcheggi Cambia l'assetto Della zona Un nuovo ingresso Per il teatro D'annunzio Una passeggiata Dunale Dalla pineta Alla spiaggia Fra poco Andremo a vedere Il servizio In questo richiamo Le parole di Blasioli Per la pavimentazione Utilizzate le lastre Di marmo Di Carrara Rimosse al palazzo Di giustizia Abbinando estetica E risparmio Andiamo a vedere Dunque Il servizio Taglio del nastro Questa mattina Della zona Della Rivera Sud Proprio di fronte Il teatro D'annunzio Una riapertura Attesa Dai balneatori Dai bagnanti Dai cittadini Nuova pista ciclabile Nuova strada Per il transito Delle auto Ma non solo Sì Nuova Diciamo intanto Nuova passeggiata Qui abbiamo Una passeggiata Di tre metri Passiamo a undici E passa di metri Quindi la passeggiata La pista ciclabile Nuove aiuole Che verranno piantumate Naturalmente Nel periodo agronomico Giusto Nuovi marciapiedi Nuovi parcheggi Nuovo impianto Di illuminazione A led Che è già stato montato Insomma Veramente siamo contenti Di inaugurare oggi La nuova viabilità Che accompagnerà Questa città Secondo me Per i prossimi Cento anni Perché le auto Passeranno tutte Quante lungo la riviera A doppio senso Di circolazione Mentre la strada Che corre Di fronte ai teatri Da oggi diventerà Una strada Parcheggio Fino a settembre Poi a settembre Quando ricominceranno Questi lavori Verrà eliminata Nascerà una grande piazza E un ingresso monumentale Ai teatri E poi la riconnessione Dell'area ex camping Direttamente con il mare Da settembre Quindi si comincerà A lavorare su questo Mentre questi lavori Sono terminati Se non per il fatto Che verrà appoggiato Naturalmente Il marmo Di Carrara Che abbiamo staccato Nel tribunale Proprio in questi giorni Sulla passeggiata Che corre di fronte Agli stabilimenti Per fare questo Abbiamo bisogno ancora Di una quindicina Di giorni di tempo Di lavoro Però intanto Diciamo Gli stabilimenti Sono pienamente accessibili È stato qualche ritardo Nella consegna Di questi lavori Qualche ritardo Dovuto al maltempo E comunque Non c'è stato nessun problema Per accedere al mare Oltretutto Proprio per facilitare I bagnanti Abbiamo fatto in modo Che l'area Ex barbella Quella che c'è dietro Il parcheggio Di via Pepe Fosse destinata Con 150 Barra 180 Posti auto Direttamente Alle persone Che accedono al mare Il sabato e la domenica Prima non c'era È una cosa nuova Insieme a quell'area Ci saranno circa 50-60 posti auto Nella strada Che corre di fronte Ai teatri Quindi dobbiamo dire Che per questo anno Veramente Non ci saranno problemi Di parcheggio Per la parte a sud Di Pescara Torniamo sul quotidiano Il centro L'inchiesta Sui bimbi abusati Avviata dalla polizia Postale Prof arrestato Caccia i complici Nella rete Il maestro di musica Aveva contatti Con decine di persone Con cui scambiava Foto porno Di bambini Lunedì Ci sarà L'interrogatorio Vedremo come si Difenderà l'uomo E poi Operazione Della polizia Un chilo di droga In casa Prese quattro Spacciatrici Proseguiamo sul centro I quartieri difficili Di Pescara La denuncia Due rioni contro il degrado Scenderemo in strada Gli inquilini di via Caduti Per servizio E via Rigopiano Promesse non mantenute E Pettinari Annuncia per il 14 di luglio Una nuova mobilitazione Davanti Alla regione Proseguiamo Con il quotidiano Il centro Chiude la boutique Chiude il cioccolato Tavoletta Va all'estero Per quanto riguarda Il commercio di Pescara E poi nel taglio alto Strada delle Fornaci Un atto formale Per fermare I lavori Vogliamo garanzie Sullo stop Al taglio Delle querce Ancora Sulle pagine Di Montesilvano L'opera Sul Saline Aperto il secondo ponte Ridurrà smog E traffico Inaugurato Il nuovo viadotto Che collega Fossoforeste A Città Sant'Angelo È stato dedicato A San Michele Arcangelo Di Marco I tempi Sono stati Rispettati Nella pagina successiva Danni all'ambiente Sotto sequestro Un'azienda di concimi A Città Sant'Angelo Due denunce Della Guardia Costiera Per le mancate autorizzazioni Degli scarichi Delle acque Continuiamo Sprarre Scontro Sul Vice sindaco Angolano La minoranza Longoverde Si dimetta Per conflitti Di interesse La replica Il sociale È il mio Campo Andiamo a completare Anche la lettura Delle pagine di Pescara Sul messaggero Il bisturi Può attendere Senza urgenza Paziente in coda Fino a due anni Caso in ospedale Dopo la denuncia Di alcuni cittadini Mancini Il manager dell'Asla Convocato in commissione sanità Antonelli Di Forza Italia Dice È inaccettabile E poi ancora I fiori del Liberty Disegnati dai liceali Nell'incanto del parco Liberty Di Villino Geniola Al lavoro I ragazzi dell'artistico Misticoni Belisaria Nel taglio basso Casa Ail Oltre mille ospiti Nei primi anni Di attività Nella pagina successiva Si torna a parlare Delle ponte sul Saline In realtà Il secondo ponte Attivo da ieri Il San Michele Collegherà la vestina All'outlet di città Sant'Angelo Attesi benefici per il traffico Sull'Adriatica Ora si aspetta L'attraversamento Ciclo pedonale E poi Polizia in azione Oltre un chilo di droga Arresti e denunce Nel bilancio Dell'operazione Denominata Alto Impatto Nella pagina successiva Passiamo a Chieti In apertura La politica Salta la tassa Di soggiorno Di primio Vengo ricattato In consiglio Passa un emendamento Dei dissidenti Di maggioranza Ed è polemica Il sindaco Fa uscire I suoi Cade il numero legale Centrodestra Sempre più a pezzi Opposizioni su tutte le furie C'è chi chiede al primo cittadino Di rimborsare i soldi Per i gettoni di presenza Poi di spalla Scuola Le orsoline chiudono I genitori sono sul piede di guerra Nel taglio basso Andiamo a vedere la sanità Nuovo ospedale Via libera Al project Costerà 285 milioni Ieri l'annuncio di Paolucci Un policlinico all'avanguardia Febbo di Forza Italia Attacca Vado in procura Possiamo andare a vedere Anche questo servizio Una progettazione importante Soprattutto un istruttore importante In questa mattinata Noi presenteremo I lavori di 48 mesi Quindi 4 anni Di istruttoria positiva E favorevole Attorno a un grande progetto Che è stato ostacolato In ogni modo Ostacolato per due volte Con i ricorsi all'ANAC Con esposti bari Raccontando Tante tante falsità Sia sui numeri Del piano economico Finanziario del progetto Sia sullo stesso progetto Che nel corso Dei 48 mesi Si è notevolmente Modificato Noi su Chieti Abbiamo riaperto La struttura Del vecchio ospedale Aperto il cardiochirurgico E oggi Mettiamo a gara A gara europea Un ospedale nuovo Di 498 posti letto Che ovviamente Risolve Una volta per tutte Le criticità Che il tribunale Aveva sollevato Con le sue perizie Evidentemente Allo stesso tempo Mette a gara Un'operazione Che costa Molto meno Della prima bozza Presentata È un'altra Grande falsità Che non è stata Mai volutamente Raccontata Da chi si è opposto E ha ostacolato In ogni modo Questa grande realizzazione Perché i canoni Complessivi Passano Da 61 milioni Di euro Della prima proposta A 21 milioni Di euro Con un abbattimento Di due terzi Dei costi E con un ospedale Che rispetto Alla prima proposta È stravolto In senso positivo Perché hanno Lavorato attorno A questa progettazione Più volte rivista Tanti primari Direttamente Gli operatori Evidentemente Anche la parte Della Asle È il grande tema Di come vengono Utilizzate le risorse È davvero vergognoso Che si sia approvato E si sia tentato Nei giorni scorsi A porre come equivalenza Le risorse Purtroppo Che noi paghiamo Per le cartolarizzazioni Cartolarizzazioni Per i debiti Del quinquennio 2000-2005 Con risorse Che invece Mettiamo a garanzia Che probabilmente Non spenderemo Perché i 21 milioni Di euro Vanno persino a gara Quindi avranno E conosceranno Un ulteriore abbattimento A garanzia Per gli investimenti Per i pazienti Per i cittadini Per la comunità Per gli operatori Per la nostra regione La sede sarà chiaramente A Colle dell'Ara E lì ci sarà Insieme Alla palazzina M Cioè all'attuale Cardiochirurgico Dove oggi c'è Il parcheggio Sottostante La parte Diciamo La parte Tra virgolette Dell'obitorio Dell'ospedale La realizzazione Del nuovo E allo stesso tempo Laddove ci saranno Le demolizioni Di quello che oggi Staticamente Non regge Ci saranno Nuovi parcheggi Nuovi servizi Per il nuovo ospedale L'iniziale progetto Erano 70 mesi Quindi sono 5,5 anni Andiamo avanti E sulle pagine Del centro Sempre Per quanto riguarda Chieti Troviamo la tragedia Sulla Fondo Valle Sinello Muore nello schianto Contro un camion Incidente in moto All'uscita dal lavoro La vittima è Giuseppe Luigi Zoccaro 55 anni Digissi Dipendente Della ditta Silatec E poi ancora San Salvo Una storia Che riguarda Le carceri E la detenzione Uccise la vicina Di casa Ora Pagano E laureato Si tratta appunto Di Vito Pagano Che ha 33 anni Ed è riuscito A studiare Nel periodo Di detenzione Il ragazzo Aveva ucciso La notte Del 14 agosto Del 2012 Albina Paganelli 68 anni Il ragazzo Aveva avuto problemi Con la droga Adesso invece Diciamo Sta cercando Di cambiare Vita E di cambiare strada Nel taglio basso La Sevel stabilizza 169 lavoratori precari A Tessa Si realizza il sogno Del posto fisso Per parte dei dipendenti Con contratti Di somministrazione Andiamo Adesso Torniamo Sul messaggero Andiamo a vedere Le pagine Di Teramo Il titolo Di apertura Di pagina Acqua del rubinetto Torbida Dopo i malori Gli investigatori A case Molino I carabinieri forestali Con gli addetti Dell'Asle E di Ruzzoreti Prelevati Nuovi campioni E interrogati Residenti Che sono finiti In ospedale E poi Bando per i parcheggi Martedì Il gestore Siamo alla vicenda Tercop Che contesta I nuovi criteri Che taglierebbero 19 posti di lavoro Con minori introiti Per il comune Andiamo nel taglio basso Ance Provincia paga I lavori Post sisma Questo è l'appello La pubblica amministrazione Viola la legge Onorando i pagamenti Dopo 500 giorni Denuncia Falone Andiamo a vedere Anche la pagina Della provincia La curia Metta a posto Quella chiesa Il sindaco Mastromauro Se la prende Con l'edificio Confinante Con la scuola Elementare Di amici Sidonia All'uso scolastico Contrariamente Le perizie Dei consulenti Della procura Potrà svolgere Le sue funzioni Conferma Il primo Cittadino E poi ancora Da Giulianova Molotov Contro il balcone Di un anziano L'ottantenne Salvato Dal vicino Di etnia Rom Le fiamme E poi il panico Nel cuore della notte In via Mattarella All'annunziata Andiamo sul quotidiano Il centro Andiamo ad aprire Le pagine Dell'Aqui Di Teramo Vediamo se Riusciamo a trovare No Non ci sono E quindi Passiamo sulla Sulla città Andiamo a vedere Le altre notizie Che riguardano Teramo Ance Intollerabili ritardi Nei pagamenti La provincia impiega 500 giorni di tempo Per onorare I lavori Eseguiti A fronte Dei 60 Previsti Dalla legge Paradosso Alle imprese Richiesta Un'immane mole Di documenti Per dimostrare Di essere affidabili Ma la pubblica Amministrazione Non onora Negli impegni Problema Uffici In provincia Come nei comuni Del Cratero Il problema E la lentezza A causa Della carenza Di tecnici Andiamo avanti Madonna delle grazie Giostrai Sfrattati Dal piazzale San Francesco Questo è il titolo Il sindaco D'Alberto Spiega Impossibile Superare Il vincolo Monumentale Imposto Dalla Soprintendenza E poi Nel taglio Basso La statua Restaurata Tornerà in processione Dopo Trent'anni Nella pagina Nella pagina successiva Spacciava A domicilio Nelle quartiere Cona Torna in manette Il 24enne Albanese Arrestato Nel mese di maggio Dalla squadra Mobile Ancora La politica Bella Chioma Non esclude Un abruzzo Giallo verde Abbiamo già visto In precedenza Come l'onorevole Leghista Abbia confermato Il tentativo Di accordo Con il movimento 5 stelle E poi Le comunali Riaprono la partita In provincia La vittoria Di D'Alberto Scombusso Le piani Delle candidature Di centrodestra E centrosinistra Si vota Entro dicembre Passiamo Alla pagina successiva La provincia Vandallinazione Al castello Di Pagliara Danni alla chiesetta Terremotate All'area picnic Nel luogo simbolo Per isola Del Gran Sasso E Castelli Proseguiamo A Valle Castellana Mancano I servizi Essenziali Gli onorevoli Zennaro E Berardini Incontrano Gli amministratori E bacchettano Anche sulla viabilità Provinciale In manette La banda Dei ladri E funamboli Siamo in Val Vibrata Quattro albanesi Autori Di colpi acrobatici Nelle abitazioni Della costa E poi Ritroviamo Le parole Del sindaco Di Giulianova Di Amicis Coefficiente Nella norma Nella pelizia Del professor Modina L'indice Di vulnerabilità Sismica E pari Allo 0,7 Ancora la pagina successiva Un cartellone Che abbraccia anche L'autunno Manifestazioni Fino a metà ottobre A Mosciano Nel programma Presentato ieri In provincia A Teramo E poi Ancora L'intervento Panni I piani Del Borsacchio Vanno condivisi Il consigliere Di maggioranza Adiano De Luca Chiede il coinvolgimento Di cittadini E operatori Turistici Nella pagina Successiva E siamo in conclusione Testamento biologico Anche per i rosetani L'amministrazione Istituisce Il registro Per le disposizioni Sul trattamento Sanitario Torniamo Sul quotidiano Il centro Apriamo le pagine Dell'Aquila Domani Ingresso solenne In città Il cardinale Petrocchia Braccia l'Aquila Alle 18 a Collemaggio La celebrazione Come neoporporato Nessuna festa Particolare Le offerte Per la parrocchia Di Cansatessa E poi Alle suore Un pianoforte Per le Filippine Il Lions Club Ha regalato Le cedestine Di San Basilio Lo strumento Per i bambini Della missione Nel taglio basso Pacco truffa Anziano perde 1700 euro Il raggiro A Trasacco I carabinieri Allertano i pensionati Colpi falliti A Tagliacozzo Nella pagina successiva Ha fatto assumere La nipote Dirigente comunale Va a processo La del principe Comparirà davanti Al tribunale collegiale Il 2 ottobre Accusata Di abuso D'ufficio Poi ancora Centropagina Targa Il primo soccorritore Di Rigopiano Il riconoscimento Del Panathon Club Di Avezzano Pierluigi Taccone Un altruista Coraggioso Andiamo sulle pagine Del messaggero Che riguardano L'Aquila Il titolo Di apertura Lega partita Ieri dall'Aquila La campagna Per le regionali Il coordinatore Belachioma Il candidato presidente Sarà un leghista Non escluso Lasse con i 5 stelle Presentate Le molte New entry Nel partito Sulle tasse Il deputato D'Eramo Ha annunciato Un incontro imminente Con il sottosegretario Giorgetti Proseguiamo Ancora Ritorniamo A parlare Di Petrocchi Messa concelebrata Col Papa La seconda intensa giornata In Vaticano Per il neocardinale Ieri la funzione Solenne Per San Pietro e Paolo Patroni di Roma Benedetti Anche i pagli Di due ex Arcivescovi Monsignor Angelo Spina E Michele Seccia Andiamo adesso Ad aprire La pagina Che riguarda Vezzano Sul Mona Santilli Nessun giallo Per la scuola media Ma il PD Non molla Siamo a Celano Il consigliere Democrat Cotturone Interviene Sulle questioni Delle borse di studio E su una serie Di interrogativi Rimasti In evasi La pagina successiva È quella Dello sport Pescara Brugman Ariete Del mercato E questa L'apertura Della Bruzzo Sport Il capitano Della Sampdoria In cambio Della contropartita Tecnica Leo Capezzi Trattativa Continua Anche con il Genoa Canutero Soblu Asenzio Al Delfino Nel frattempo Parte La campagna Abbonamenti Ma soltanto Sul web Per quanto riguarda Il taglio basso Footvolley In scena Tre superstar Iridate Oggi e domani Allo stabilimento Il Moro Di Pescara Arrivano Grosso Oddo E Aldair Andiamo a vedere L'apertura Dello Sport Anche sul Quotidiano Il Centro Le trattative I Biancazzurri Pescara In arrivo Anastasio Dal Napoli Tutino Pista difficile Intesa con il club Campano Per il prestito Del terzino Sinistro Cosenza In pole Per l'attaccante Ma il Delfino Non molla E intanto Preparazione Al Via Il 9 luglio Al Vestina Poi si andrà A Palena Per quanto riguarda I diritti Serebia Perform Le partite Si vedranno Sul web Il venerdì L'anticipo Anche in chiaro Su Mediaset Torrai Chiesto Alle retrocesse Il contributo Di solidarietà Nel taglio Basso Teramo In arrivo Zecca Dalla Sassuolo Serie C I Biancorossi Puntano Anche il difensore Piacentini E l'attaccante K Torniamo Sul Sul messaggero Ancora Notizie Di sport Per quanto riguarda Il Teramo Il Teramo Iscritto Documentazione Ok La società Di Campitelli Ha lavorato Senza sosta Per compilare La modulistica E non incorrere In sanzioni Da parte Della Covisoc Nel taglio alto L'Aquila Ai tifosi critici Per la panchina Spunta Andrea Conti La replica Di Us Ancone Foligno Non centro Con i guai Poi ancora Le altre notizie Il rugby Mister Rottilio Lascia l'Unione In difficoltà Il nuovo team aquilano Alla ricerca di un coach Il club invece È a un bivio E poi Il trofeo Wispascano Carulli Gare con 1500 Atleti E poi ancora Amatori Pescara Primo colpo In arrivo L'Italo Serbo Micevic Andiamo a vedere Anche la pagina Di sport Sulla città E concludiamo La nostra rassegna Teramo Iscrizione Ok Ora c'è il mercato Il mestre saluta Il professionismo Ripartirà dall'eccellenza L'attaccante di Renzo Firmerà Tra poche ore Depositata la documentazione Nella giornata ieri Depositata la documentazione Relativa alla richiesta Di iscrizione al campionato Che verrà il diavolo Impegnato a cancellare Un'annata Per nulla Positiva Di spalla La pallavolo Pietro Di Meo Nuovo acquisto Per la Blue Italy Pineto Volley E nel taglio basso Il ciclismo Domani Appuntamento a Coropoli Con pedalando Per la Val Vibrata La manifestazione sportiva Organizzata Dall'associazione Dilettantistica Taglia il traguardo Della ottava edizione E questa era l'ultima notizia Per quanto riguarda La nostra rassegna stampa Mattino 6 E termina qui Tornerà lunedì Alle ore 8 La nostra informazione Come sempre Oggi è 14 Alle 19 E alle 23 Con il TG6 Io vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon fine settimana Grazie a tutti